Siamo qui a Campalto in via Gobi, sono vicino al cantiere per la variante statale 14, si presenta un dosso molto pericoloso, sconnesso. Questa galleria ha comportato nel tempo crolli con voragini importanti. La strada si è rialzata molto, è diventata un dosso ed è molto sconnessa. Questa è la pista ciclabile, non più in condizioni idonee per mantenere una certa sicurezza, ma è una pista ciclopedonale, quindi questi avvallamenti creano delle situazioni veramente particolari. Ci sono buche, si è deformato il manto stradale. Non vi sono neanche cartelli di pericolo, i cartelli sono quelli presenti, quelli verticali sono stati coperti dalla vegetazione, dagli alberi. Questa soluzione c'è, rinominiamo la strada da via Gobi a via Gobi.